Non ho trovato niente. Perché non lo trovo? Io sono tranquille. Questa è una stampa che mi scelta, non lo trovo. E come faccio? Questa è la stampa sia dove tocca. Signora, come sia gentile? Sono 20 minuti che io... Qui l'hanno scritto tutto, non si può sbagliare. Tanto per cominciare c'è da pagare la differenza IRPEF per l'anno 2007 e sono 650 euro. Poi ci sono le sanzioni regionali, le sanzioni statali, le spese di procedura, spese di spedizione fanno 4.500 euro. Cioè io devo pagare 3.850 euro di multa per un versamento di 650 euro che nessuno mi ha detto che dovevo pagare e poi lei lo sa bene 5 anni fa non è come adesso. Veramente sono 4 anni e 10 mesi. Certo bravi perché state attenti con un sciato di prescrizione no? Ma è una carognata spedire una raccomandata alla scadenza. Signora ma questo non è un problema mio. Ma aspetta controlliamo ancora una volta abbia pazienza. Dobbiamo controllare signora come che dobbiamo controllare? La multa la dovete pagare va bene? Se no vi aumenta del 40% se non la pagate entro 60 giorni va bene? Adesso per favore vai perché c'è altra gente che sta aspettando. Arrivederci. Così ha perso la pazienza? Per questo mi sta trattando in questo modo? Sa quanta pazienza degno io con un uomattie? Nudda! Signora vai vai Masculato questa qua Ioce! Masculato! Che cos'era? IRPEF? Eh IRPEF 2007. C'è ci fai? Adele. Adele tagliaferro. Ma perché la conosci? No la conoscevo la conoscevo. Senti mi prendo il numero. A voi.